Un saluto caro a Reteotto, un saluto al popolo vastese, a chi ci ha dato una grande fiducia, un grande affetto, un grande amore, un risultato veramente stravolgente. Ora abbiamo riempito di gioia il verbo vincere, riempiamo anche di gioia il verbo lavorare, il verbo sorridere, il verbo dare entusiasmo e grandi speranze al popolo vastese. Qual è stata la chiave di questa nuova grande vittoria? Lavorare, lavorare suodo, lavorare tutti i giorni, essere presente e avere un concetto di famiglia unita della politica. Una bellissima vittoria, un grande risultato veramente, ringrazio di tutti quanti i candidati, la famiglia, gli amici, la grande squadra che si è creata e quel grande circhio magnetico, quella grande calamita che ha portato ad avere consenso e affetto umano. Chiedo una cosa, le chiedo cosa si sente di dire a queste persone, a questa gente di vasto che le è venuta a salutare qui, ma a tutti i cittadini che chiaramente lei è il sindaco di tutti. Che li voglio bene, nessun minuto all'ozio, nessun minuto alla perdita di tempo, ma fare come è sempre, lavorare dal primo fino all'ultimo minuto.